buonasera buonasera a tutte e a tutti grazie per essere qui in questo quarto momento di presentazione di stormi molti e molti dei presenti già sanno che cos'è stormi è il magazine che stratagemmi prospettive teatrali in collaborazione con l'università degli studi di milano dedica alla stagione del piccolo teatro raccontandolo mensilmente attraversando le poetiche le pratiche le estetiche che dal palcoscenico in qualche modo dilagano verso la città e questo quarto numero con il quale inauguriamo il nuovo anno ha come titolo il politico è privato il privato è politico e in esso trovano spazio le riflessioni e le interviste raccolte dai partecipanti studenti studentesse della statale di milano raccolte da tre artisti che hanno portato portano e porteranno presto sui palcoscenici del piccolo teatro le loro creazioni il titolo già in qualche maniera vi può far capire qual è il fil rouge con il quale abbiamo cercato di raccontare questo questo trittico le intersezioni tra in qualche maniera individuo e società tra micro storia e storia collettiva e storia e storia plurale e gli artisti che trovano spazio nel in questo numero del magazine sono marco paolini di cui molti e molti di voi avranno avuto modo di vedere vaionz 23 la riedizione di uno spettacolo storico e di una pietra miliare del teatro italiano come il racconto del vaiont c'è poi spazio per giuliana musso di cui presto avremo modo di vedere dentro e c'è ovviamente spazio per o paura torero la creazione che claudio longhi qui presente accanto a noi ha diretto a partire da uno straordinario romanzo di pedro lembell io sono alessandro iachino alla mia destra maddalena giovannelli insieme a camilla lietti e francesca serra zanetti costituiamo il nucleo redazionale di di stratagemmi ho già presentato anche se non ha bisogno di presentazioni claudio longhi a destra con noi in questa conversazione a partire da dalle tematiche di questo numero di stormi e dai nuclei di senso dispiegati in o paura torero daniela brogi critica letteraria cinematografica visuale docente di letteratura italiana contemporanea all'università per stranieri di di siena e proprio con proprio da daniela vorrei con daniela vorrei iniziare questa conversazione che come è consuetudine immaginiamo aperta e inclusiva alle vostre domande suggestioni curiosità e vorrei partire da daniela da uno degli elementi per più interessanti per chi e mi auguro molti e molti di voi ha avuto modo di leggere il romanzo di pedro lembell o già di vedere lo spettacolo in questi giorni in scena ed è un elemento di un elemento centrale nella nella narrazione sia letteraria che vedremo in qualche modo anche teatrale ed è la la messa in discussione la messa in evidenza di un di un punto di vista in qualche maniera di una prospettiva dal quale la fata dell'angolo questa straordinaria protagonista del romanzo osserva la città e che nel romanzo e nello spettacolo poi prende la forma di una pluralità di di punti di vista e di prospettive da cui si osservano le scene da cui si osservano le vicende narrate spesso in in sincrono l'episodio del del picnic che viene vissuto a due punti di vista ma è anche in in qualche maniera ovviamente una un punto di vista che non ha solo a che fare con con la visione ma è anche una prospettiva esistenziale in qualche maniera il punto di vista che la fata dell'angolo incarna è un punto di vista che potremmo definire uno sguardo dal margine nel modo in cui belux tra le altre ha trattato il margine e la marginalità allora prima di tutto buonasera buonasera grazie di avermi fatto essere qui e fatto vedere uno spettacolo che ho trovato straordinario e cercherò di dialogare con la questione già messa sul tavolo da Alessandro senza dare per scontato che tutti abbiano visto lo spettacolo o letto il romanzo e quindi mi sembra importante ripartire dal dire che questa fata dell'angolo questa definizione così così favolosa e così ipnotica che quasi quasi subito cattura chi legge il questo romanzo credo uscito nel 2001 in prima edizione questa fata dell'angolo è una creatura ibrida e in qualche modo anche una specie di aliena una creatura aliena è un travestito e occupa e abita una posizione che è significativa sia da un punto di vista letterale che da un punto di vista simbolico o formale perché come dice come già diceva Alessandro è un travestito che siamo nell'86 quindi nel Cile della dittatura e di Pinochet abita in una in una casa manzarda ad angolo in un cortile di un quartiere periferico quindi come come si vede siamo già in termini spaziali letterali ma anche simbolici in una posizione e condizione borderline e quello che è interessante è che questa posizione così fuori campo grazie proprio al linguaggio e all'impianto costruito dal romanzo e così bene poi ripreso e rivalorizzato dalla drammaturgia e dall'allestimento proprio scenotecnico dello spettacolo che ho visto ieri sera cioè questa posizione così fuori campo diventa gradualmente una posizione attraverso la quale disinnescare non occupare il centro e basta perché non si tratta di sostituire a un cuore centrale del discorso e del discorso del potere perché vi dicevo che siamo nel Cile di Pinochet non si tratta di sostituire a un centro un altro centro ma di disinnescare l'idea che esista un unico centro e anche un unico discorso sul potere e anche sulla sessualità e quello che è interessante penso che avremo tante cose da dire e da ascoltare dal regista è che questa scelta di un punto di vista quello della fata dell'angolo attraverso il quale disarticolare disarticolare che cosa? Il monologo del potere, il monologo del tiranno, il monologo del dittatore fin dalle prime pagine diventa come vi dicevo una specie di interruttore operativo attraverso il quale costruire tanti livelli che si intersecano no? In questo senso è molto giusto e condivisibile quello che diceva Alessandro quando chiamava subito a partecipare alla nostra conversazione Bellux e le sue categorie appunto di sguardo trasversale e intersezionale perché la narrazione la scrittura ma anche l'esperienza che si fa a teatro in maniera veramente felice più passava il tempo, lo dicevo prima, dura tre ore questo spettacolo non mi nascondo, avevo un po' il timore di avere un colpo di sonno dopo due ore invece la cosa straordinaria è che più passa il tempo e più sei sveglio perché più passa il tempo e più sei contenta di far parte di questo spettacolo dove non sai più dove e come e cosa guardare perché tutto accade intorno a te in tanti punti, forse posso fermarmi prima? Ci sono già tantissime cose in quello che ci stava dicendo Daniela Broggi ne rilancio una per Claudio Longhi allora questo spettacolo è un'occasione speciale per molte ragioni ma è anche diciamolo chiaramente un pretesto per conoscere un autore che non conoscevamo, che non si conosceva viene da dire oggi un po' inspiegabilmente vista la qualità del romanzo e anche la qualità del dibattito che fa emergere se lo si attraversa e in questo sollecito chi non l'abbia ancora fatto ad attraversare la lettura della pubblicazione che accompagna lo spettacolo che è ricchissima è davvero una lettura che può impiegare ore per ricchezza e pienezza di stimoli quindi davvero fatelo di andare a scaricare questa pubblicazione perché è bellissima tra le moltissime cose che contiene anche un meraviglioso manifesto che Le Mebel scrive e pubblica dal quale si vedono moltissime cose e leggerlo come appunto sollecitate a fare in intersezione con lo spettacolo credo valga davvero la pena farlo fino in fondo allora c'è questo inizio appunto di cui oggi discutevamo tra l'altro in redazione in cui Le Mebel se la prende da prima con Pasolini o meglio dice non sono Pasolini richiamo questo perché in qualche modo Daniela adesso diceva questo è uno spettacolo è una narrazione che non parte dal centro e che dicevi adesso Daniela disinnesca alcune narrazioni del potere non solo e questo forse è più doloroso in un certo senso perché disinnesca alcune narrazioni anche della politica progressista ed alcune narrazioni anche della postura intellettuale Pasolini appunto come esempio che lui sceglie appunto e mette in incipit ma non solo tra i racconti molto belli che ci sono in questa pubblicazione di cui vi parlavo c'è anche il racconto di un Bolagno già piuttosto noto che arriva a Santiago e ci viene descritto un immaginario da circolo di intellettuali cileni che non vedono l'ora di farsi notare da Bolagno e di farsi in qualche modo consacrare e in realtà Bolagno tornando dice appunto non c'è nessuno di cui valga la pena parlare se non l'Eme Bell cioè l'anti intellettuale allora la cosa Claudio su cui mi faceva piacere in qualche modo così dialogare e riflettere con te anche alla luce di quello che è stato il tuo percorso teatrale intellettuale che ha attraversato a vari livelli invece intellettuali novecenteschi come dire di tutt'altra matrice ecco questo attraversamento di un l'Eme Bell con una postura così radicalmente anti-intellettuale cosa ha significato per te? è stato un incontro straordinario e felicissimo fortuito, straordinario e felicissimo la marginalità è esattamente il punto di vista da cui l'Eme Bell si colloca e guarda al mondo ed è una marginalità che lui rivendica e che spinge a tanti livelli è la marginalità dell'essere maricondo o dell'essere frocio come lui stesso scrive dice e rivendica ma non è soltanto la marginalità dell'essere frocio è la marginalità dell'essere travestito e quindi una marginalità all'interno della comunità omosessuale è la marginalità che per noi è più difficilmente percepibile perché la nostra è una società organizzata diversamente ma che in Cile è molto forte che è una marginalità anche etnica essendo mappuccio quindi appartenendo anche a una minoranza etnica in qualche modo è una marginalità che rivendica scegliendo consapevolmente il cognome della madre e quindi interrompendo in una società fortemente maschilista come la la società cilena che l'Eme Bell ha attraversato di mettersi da un'altra parte tra l'altro proprio nei versi del manifesto c'è un un passo bellissimo che è dedicato alla madre e alla al peso che questa figura ha avuto nella sua formazione rispetto alla questione specifica e quindi per l'appunto quello diventa il punto di vista ed è un un punto di vista che per l'appunto disinnesca la possibilità del centro perché ci si mette come in qualche modo ci anticipava Daniela ci si mette costantemente fuori centro e il fuori centro mette in crisi l'intero sistema perché a quel punto tutto l'edificio del del potere crolla non per nulla nell'incontro parallelo in uno degli incontri parallelo a questo mi riferisco alla presa di parola insieme a Lina abbiamo scelto di lavorare su un testo di Canetti la missione dello scrittore che chiama in causa la riflessione sul monologo del potere indirettamente attraverso quel grande monumento o buco nero della cultura del novecento che è massa e potere e nella missione dello scrittore Canetti rivendica per lo scrittore il ruolo di custode della metamorfosi ma dentro questa idea di metamorfosi c'è anche l'idea di marginalità cioè di una identità che viene costantemente messa in discussione e che sfugge e scappa da tutte le parti rispetto alla questione dell'intellettualità è molto significativo se non ricordo male è una battuta che Demebel ha fatto in un'intervista in cui gli si chiedeva il rapporto con Puig e il bacio della donna Ragno e lui ha risposto una cosa del tipo leggo poco ecco quella quel tipo di battuta in realtà ti parla di come questa radicale messa in discussione del centro del potere e da un certo punto di vista anche della figura dell'intellettuale sia in realtà un esercizio intellettuale fortissimo è estremamente significativo da questo punto di vista l'analisi del romanzo da un punto di vista squisitamente letterario nel senso che ricordo l'impressione violentissima che mi ha fatto il romanzo quando l'ho letto la prima volta e ho avuto la sensazione di questo torrente anzi di questa cascata emotiva che ti arriva addosso e questo legame così profondo e viscerale con con la città di Santiago con con il Cile sostanzialmente che forse è il vero oggetto di desiderio di di Lemebel della fata è verissimo tutto questo dopodiché se prendi in mano il romanzo e lo leggi con attenzione ha un'architettura da un punto di vista narratologico estremamente sofisticata con un sistema di rimandi di giochi di specchi di costruzioni che lo rendono un prodotto letterariamente costruitissimo non è dietro questa specie di grande flusso di coscienza orale in cui l'amore si mescola alla politica c'è questo a mio giudizio straordinario straordinaria riflessione sulla giovinezza sul senso della giovinezza che incrocia anche Bolagno c'è tutta questa tempesta ma poi vai a vedere è una tempesta che è un diamante nella regola aurea con cui è costruita basta soltanto dico le prime cose che mi vengono in mente il modo in cui viene utilizzato il sogno il modo in cui viene utilizzato il sogno ti balzano agli occhi immediatamente i sogni di Pinochet ma poi ti rendi conto che dietro i sogni di Pinochet ci sono i sogni della fata che i sogni corrispondono a dei risvegli da un'altra parte non si capisce chi è che si sta risvegliando tant'è vero che a un certo punto ho avuto quasi la sensazione che ci fosse una specie di strano meccanismo alla vita e sogno dentro o più ancora la Calderon di Pasolini in cui il problema diventa chi è che si sta svegliando e da che sogno si sta svegliando tutto questo per dire che dietro questa radicale contestazione della della figura monolitica dell'autorevolezza dell'intellettuale c'è di fatto una riflessione intellettuale molto forte marginalità intersezione vedo che sono parole che sia Claudio che Daniela hanno pronunciato più volte in qualche maniera la figura di Lemebel la figura della fata e anche Paura Torero come dispositivo letterario e teatrale rappresentano sono un'immagine di ciò che oggi intendiamo quando parliamo di intersezione e di intersezionalità mi fa anche piacere che sia stato appunto nominato il bacio della donna ragno Manuel Puig soprattutto perché da sia dal lettore del romanzo che da spettatore di di Paura Torero ho avuto l'impressione che come per Puig un altro piano che in qualche modo interseca appunto la narrazione e anche le biografie narrate sia quello del cinema di un immaginario cinematografico e di un immaginario del divismo in qualche maniera cinematografico che è centrale per per la fata che leggiamo legge spesso Cine Amor e si identifica in qualche maniera nelle grandi dive nei grandi divi del cinema ed è qualcosa che lo spettacolo per chi l'ha già visto è abbastanza evidente recupera almeno almeno su due piani uno è quello di un di un utilizzo sofisticato di un di un montaggio in qualche maniera debitore di quella che è la lezione del montaggio cinematografico ma anche è una creazione che grazie al visual design anche di Riccardo Frati che davvero costruisce in qualche maniera una drammaturgia visiva e visuale si rifà a un preciso immaginario cinematografico che in qualche maniera crea in qualche modo anche una frizione con con ciò che con ciò che la vicenda narra penso a all'utilizzo dell'immagine di Marlene Dietrich quando viene nominato Lili Marlene perché il dittatore ascolta Lili Marlene in continuazione ma penso anche a quel momento in cui una storia d'amore eterodossa colta in un viaggio in automobile si rispecchia in realtà nei volti di Doris Day e Roccazzon che sono per noi latori di ben altre come dire di ben altre ben più normate esistenze benché anche come dire sull'esistenza di Roccazzon poi nella biografia del personaggio nella biografia dell'attore si potrebbe soffermarci ecco volevo chiederti Daniela in quanto oltre appunto critica letteraria sai anche critica cinematografica come hai percepito questo utilizzo cinematografico l'ho percepito nel senso che stanotte ho fatto tardissimo a riguardarmi su youtube tutti i filmati che erano stati usati e rimessi e proiettati sullo schermo teatrale perché sempre continuando a cercare di non dare per scontato che tutti abbiamo visto letto il romanzo guardato lo spettacolo siamo a Santiago nel 1986 si parte dal racconto la descrizione di questa casa nell'angolo della fata ignorante che è il posto più dislocato e anche destabilizzante che ci possa essere è una specie di Santiago a prima vista disambientata avrebbe detto celati che però è uno spazio dentro il quale lo spazio proprio più più piccolo più laterale più marginale che ci sia dentro il quale però entra violentemente la storia pubblica la storia di Santiago e della dittatura perché che cosa succede che è uno studente che insieme ad altre ragazze e ragazzi sta facendo una guerriglia contro il regime fa amicizia se ne approfitta probabilmente anche del fatto che la fata si innamora di lui e nasconde dentro la casa della fata delle casse di munizioni o comunque sia di materiale esplosivo ora questa situazione narrativa cioè per cui romanzescamente e anche cinematograficamente la grande storia entra dentro lo spazio più piccolo che noi ci possiamo immaginare viene risolta in termini romanzeschi e poi teatrali attraverso un sistema continuo di costruzione di scenari quindi noi abbiamo anche dentro la stessa scena teatrale mentre guardiamo lo spettacolo a volte è come se fossimo davanti a un quadro di Mondrian perché ci sono tanti riquadri c'è il riquadro della casa dove abita la fata e dove riceve il suo amico innamorato cioè lei è innamorata è un amore a senso unico almeno a prima vista poi non si sa poi sopra spesso appare un riquadro con Pinochet e la moglie e poi di lato o anche fuori dallo spettacolo quindi dalla platea un po' come succedeva all'inizio di sei personaggi in cerca d'autore quando arrivano i personaggi alle spalle del pubblico via via entrano nuove voci nuovi nuovi punti di vista e su questo schermo tanto per complicare ulteriormente questo sistema di quadri dentro altri quadri di scatole dentro altre scatole che sono contemporaneamente contenitore e contenuto per cui Pinochet contiene la storia della fata ma anche la storia della fata contiene Pinochet un sistema di specchi come diceva Claudio spesso vengono proiettate anche questi questi spezzoni che di tratti da film degli anni trenta che rimandano all'immaginario della fata che soprattutto all'immaginario della fata che è un personaggio di cui non si può non innamorarsi perché è una persona come dire profondamente consumata dalla vita ma che fa una specie di capriola trova un terzo spazio un altro spazio proprio attraverso questa immaginazione attraverso la radio attraverso le canzoni il titolo stesso del romanzo e dello spettacolo tengo miedo torero ho paura torero è una canzone quindi questo immaginario pop l'aiuta a portare a guardare in alto a portare la sua mente in alto e come dicevo sin dall'inizio la cosa che poi da un punto di vista teatrale è estremamente interessante è che tu guardando lo spettacolo come leggendo il romanzo fai esperienza proprio di quanto il teatro possa essere un linguaggio straordinario dal punto di vista della capacità di mobilitare tutto quello che c'è immagini suoni corpi scena movimenti o proiezioni sullo schermo che ti facciano appunto provare questa questa esperienza come possiamo definirla di una multifocalità simultanea forse e da un punto di vista registico questo questo dialogo in qualche maniera con quel con quell'immaginario cinematografico e con le modalità con cui appunto può in realtà mettersi in parte forse anche in contraddizione con con quella con la narrazione che invece nella liveness del palco ha al luogo che cosa cosa ha significato allora la l'esplosione del della dimensione cinematografica nasce in realtà proprio dal bacio della donna ragno nel senso che quando quando ho letto il romanzo immediatamente il romanzo ha fatto corto ho paura torero ha fatto corto circuito col bacio della donna ragno che invece avevo letto svariati anni fa poi avevo visto il film mi era anche capitato di lavorare su un testo teatrale di puig il mistero del mazzo di rose in quel caso la dimensione cinematografica è conclamata lo dico per chi non conoscesse il romanzo anche nel nel bacio della donna ragno è in questione l'incontro tra un travestito e un militante politico e l'incontro avviene in una cella in quel caso perché sono entrambi detenuti e il travestito mette in atto una sorta di strategia alla mille e una notte per cui ogni notte prima di addormentarsi intraprende il racconto di un film al terrorista e questo film diventa in realtà è un racconto che appunto come nella mille una notte rimbalza di notte in notte per cui è un unico lungo film che si dipane in questi racconti e diventa lo strumento di evasione dalla realtà di costruzione di una realtà altra di mezzo per l'appunto per Molina che sarebbe il travestito del bacio della donna ragno per sfuggire al linguaggio della dittatura per sfuggire all'oppressione del potere in quel caso dicevo il rimando all'immaginario cinematografico è diretto e fortissimo e per chi di voi ha visto il film ricorderà che c'è una sorta di strategia metacinematografica per cui il film all'interno del film diventa un film in bianco e nero che serve a staccare rispetto alla storia ordinaria dei due nel bacio nell'inopauratorero la funzione forte che il cinema ha dentro il bacio della donna ragno è tenuta dalla radio dai programmi del cuore dal da una radio che in realtà è antitetica all'interno dell'opauratorero perché è la radio dei programmi del cuore che la fata rivendica come i suoi programmi all'inizio del romanzo quando dici io non ho testa per la politica mi piacciono le canzoni romantiche ma che al tempo stesso si ribalta in radio cooperativa che è invece la radio che ti dà le notizie politiche ma a un certo punto anche radio cooperativa diventa la compagna della notte per cui come racconta la fata all'interno la voce di Sergio Campos diventa un balsamo nella notte della dittatura e oltre alla fuga nell'immaginario delle canzoni c'è anche la ricerca dell'amicizia e del conforto nella voce di radio cooperativa per l'appunto la dimensione cinematografica nel romanzo esiste il cine amor di cui si parlava che è un rifugio di lettura della fata esiste nel richiamo a grandi figure dell'immaginario cinematografico soprattutto latinoamericano Sara Montiel per prima che ritorna citata nel romanzo ritorna come evocazione di topoi in qualche modo che la fata costruisce per se stesso è meno diretta di quanto non sia nel bacio della donna ragno nel momento in cui ci siamo trovati a lavorare sulla sullo spettacolo un po' avendo in mente il bacio della donna ragno un po' per trovare un escamotage tecnico a un altro problema che ti pone il palcoscenico cioè come fai a raccontare una città su un palcoscenico perché Santiago è la protagonista di questo romanzo al di là di tutto a quel punto il mondo del cinema è cominciato a venire in soccorso ancorché straniato inserito in quelle scatole di cui parlava Daniela per evitare che il mondo del cinema diventasse semplicemente uno schermo su cui proietto delle cose perché a quel punto sarebbe stato un uso alla piscator per intendersi che negli anni venti poteva avere un senso oggi avrebbe fatto sorridere per cui tutta la riflessione sviluppata con Riccardo su come teatralizzare l'utilizzo del mezzo cinematografico e come a quel punto usare il mezzo dare più corpo alla dimensione cinematografica che nel romanzo rimane latente esplicitandola attraverso queste proiezioni che hanno generato anche delle iperfettazioni tipo la sequenza di Doris Day per l'appunto che non è da romanzo ma inevitabilmente nel momento in cui senti che l'immaginario della fata che è costruito su quelle canzoni che è costruito sul cinema ha potenzialmente dentro lo sfondo cinematografico allora glielo metti a dialogare contrastivamente rispetto alla scena che sta vivendo in macchina e in cui la fata la fata stessa sta affabulando una situazione in cui si vuole principessa con con Carlos che fa da autista eccetera 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 quindi è stata in qualche modo non una forzatura rispetto alla scrittura del romanzo perché è dentro al romanzo è stato più che altro un modo per far emergere con maggiore evidenza una possibilità del romanzo usando come cartina al tornasole o come reagente la scrittura di Puig che per l'appunto lui aveva letto poco così ci dice prima che continuiamo a dialogare al buio una curiosità quanti di voi hanno visto lo spettacolo? beh insomma una buonissima percentuale allora ci sono tantissime cose di cui vorremmo discutere con voi ma ce n'è una una suggestione un argomento di cui vorrei parlare sia con Daniela che con Claudio che è la rappresentazione del potere dentro il romanzo e dentro lo spettacolo come sapete molti di voi sanno appunto Pinochet e sua moglie sono due personaggi a tutti gli effetti e nella varietà a mio avviso interessantissima di registri che il romanzo contiene ecco la narrazione di questi due personaggi è assolutamente dai toni come dire grotteschi e caricaturali e questo è un ribaltamento molto interessante perché come sappiamo in letteratura ma diciamo dalla tragedia greca in poi normalmente i registri stanno al contrario cioè l'eroe o la persona di alta classe sociale tiene la linea tragica o seria e la persona popolare tiene la linea comica appunto da Euripide in poi qui la raino ovviamente ribalta completamente i piani creandoci involontariamente un senso di spaisamento io ho provato una sensazione che ho condiviso con qualche altro spettatore cioè di faticare un istante a accordarsi su quel registro di avere al momento un primo spaisamento e poi improvvisamente di stare dentro quel registro allora in realtà di racconti di rappresentazioni caricaturali del potere ne abbiamo avute molte anche in cinema proprio del dittatore ognuno di noi sta ricordando probabilmente qualcosa da poco lo ricordavamo prima con Daniela è uscito un film di un autore regista cileno come la rain che l'anno scorso è uscito con questo è il conde in cui appunto si immagina un ritorno di Pinochet appunto come ambiguissimo pipistrello che appunto va sorvolando sul mondo cosa appunto sia dal punto di vista visivo sia dal punto di vista del romanzo dove sta secondo voi la provocazione se è una provocazione nella fruizione di questa caricatura del potere allora rispetto a questo tema mi vengono in mente due cose una che per quanto mi riguarda la via maestra per arrivare a questa rappresentazione oltre che essere data dal romanzo perché comunque diciamo in tutte le scelte che ho e abbiamo fatto il romanzo è sempre stato il punto di partenza però fermo restando che quello era il primo livello per me il punto di partenza sono state le riflessioni di Brecht intorno alla rappresentazione del potere del dittatore con riferimento ad Arturo Ui che era un testo che io mi sono trovato a frequentare ormai quasi quindicina d'anni fa e resta dal mio punto di vista una regola aurea quella battuta di Brecht nelle note di regia all'Arturo Ui quando dice la tragedia molto spesso più della commedia prenda la leggera le sofferenze dell'umanità e come il coturno visto che si parlava di di tragedia come il coturno di fatto finisca con l'essere ambiguamente assolutorio nella misura in cui la rappresentazione del potere diventa la rappresentazione del genio del male quello che Brecht continua a ripetere Hitler era un imbecille non era un genio del male era un un criminale seriale ma non gli devo riconoscere una statura di nobiltà o un tratto di poesia perché immediatamente innescherei dei meccanismi fascinatori che diventano assolutori mentre è quella che Auerbach definirebbe la via del realismo che poi tradotta in termini poetici vuol dire la via della commedia che ti apre alla rappresentazione del potere che ti consente di relativizzarlo che ti consente di prendere quello sguardo marginale di cui stavamo parlando prima quindi un primo orizzonte è stato quello poi c'è stato l'orizzonte del lavoro con gli attori che non è stato semplice perché devo dire più forse più Arianna di Mariano ma hanno avuto un enorme problema loro a vestire quei panni primo problema secondo problema il problema di rapportarsi a una caratterizzazione di non di non essere dei caratteristi e lì con pennellate successive con un percorso che non è stato per niente semplice ma il tipo di lavoro che è stato fatto è quello di cercare il carattere quindi andare sicuramente sopra le righe perché effettivamente sopra le righe sei ma dentro una plausibilità cioè ahimè quella signora lì la incontriamo attraversando la strada e andando a prendere un caffè nei bar qui di fronte e questa è agghiacciante e allora come la tiri fuori quella figura lì mandandola in ipervoltaggio ma al tempo stesso anche riconoscendone i tratti di plausibilità barra a suo modo umanità che è poi il tipo di lavoro che fa anche l'Emebele internamente con più evidenza sulla figura di Pinochet quando riporta al sogno della festa di compleanno e in qualche modo ti apre un altro abisso dentro alla rappresentazione del potere quindi è stato un lavoro veramente di limatura costante spinta per l'appunto su questi due pedali per un verso cavalcare diciamo l'onda espressionista barra caratterista se traduco l'espressione se traduco la categoria di espressionismo nel linguaggio del teatro all'antica italiana perché tanto di quello stiamo parlando cioè il cosiddetto teatro del grottesco italiano non è altro che un correlato di certe derive espressioniste appoggiato sulla tradizione delle compagnie capocomicali con il caratterista il brillante che diventa il punto di partenza di certe riflessioni quindi c'era un lavoro su un mestiere teatrale che appoggia dentro una tradizione attorica di un certo tipo che però guarda al tempo stesso a una plausibilità paradossalmente realistica per restituire a pieno quelle figure che sono francamente agghiaccianti io posso ha risposto Claudio naturalmente io posso aggiungere a fianco insomma della delle risposte che ci ha dato il il regista che questa questa coppia ad alto affare è una coppia estremamente grottesca ma che ci ma che ci fa percepire quanto la stupidità dei capi spesso sia una delle cose più pericolose e anche più violente che ci siano perché perché è vero che che loro questi questi due personaggi sono svuotati di di serietà no e però nel momento in cui vengono caricaturizzati e appunto lui spiegava il il lavoro proprio che c'è stato intorno alla costruzione del personaggio non diventano quello che diventa Pinochet nel film di Larrain cioè un vampiro anche grottesco ma alla fine dentro una storia sgangherata no perché qui invece la la storia è continuamente costruita e ripensata cioè c'è una capacità di farti percepire la la violenza del grottesco e contro questa violenza che cosa perché poi questo è il punto come si fa il punto la questione no che che si pone evidentemente l'autore di Tengo Miedo Torero come si fa a disinnescare un discorso che così mitomane e che si vuole così serio e dunque anche così violento lui usa il corpo della fata in scena e un altro aspetto che mi ha colpito è che questo corpo un corpo anche invecchiato un corpo truccato mascherato però è un corpo straccione nel senso che per tutte e tre le ore dello spettacolo si usano continuamente degli stracci dei tessuti delle tovaglie dei teli dei vestiti che lei lui si mette si rimette e mi è piaciuto molto questo dispositivo cioè perché evidentemente non è soltanto un modo per come dire per tenere impegnato il corpo del personaggio ma per alludere a questa disperata anche e mai pacificata attività insomma del corpo non conforme il corpo che incarna incarna proprio nella propria carne un desiderio sessuale non conforme di trovare uno spazio un'identità anche quella mi sembra un'operazione grottesca no? questo controcanto continuo per cui Pinochet è vestito nello stesso modo dall'inizio alla fine mentre invece la la fata ignorante interpretata da Lino Guanciale è cioè lavora in continuazione con tutti questi stracci per coprire decorare usare cioè è un artificio all'opera non so se tra l'altro appunto l'impressione è che quella stupidità stia dove non dovrebbe stare da questo punto di vista anche l'impianto scenico che per molte parti lo ricordavamo agisce su un piano superiore un piano inferiore ci fa proprio sentire che in quel piano inferiore straccione si stanno consumando questioni di enorme serietà in quel piano superiore e qui riconduco il mio spaisamento di cui vi condividevo prima in quel piano superiore troviamo invece quella ottusità che non vorremmo trovare ecco credo che il dispositivo scenico abbia in questo senso amplificato moltissimo efficacemente il dispositivo presente nel romanzo ovviamente io e Alessandro vorremmo fare altre 800 domande ma non siamo così egoisti di tenere per noi questo tempo con Claudio e con Daniela quindi apriamo abbiamo qualche minuto per aprire a domande questioni per chi di voi ha visto lo spettacolo molto liberamente prego grazie una domanda sulla musica e lo spettacolo io l'ho visto purtroppo non ho ancora letto il libro e quindi storia cilena autore cileno completamente immerso nel mondo cileno mi ha incuriosito come mai verso il finale sia comparsa una musica tipica della tradizione argentina e mi riferisco a Fueron Tres Agnos di Hector Varela e volevo sapere di più di questo legame con con la musica in rapporto alla narrazione alla storia del romanzo se ci fosse qualcosa di non so mi incuriosito allora la mi è capitato di dirlo già altre volte tra le tante cose che ho paura Torero è anche un romanzo in forma di canzone nel senso che è un romanzo costruito di canzoni sono se non ricordo male ho 36 o 41 le canzoni che vengono citate all'interno del romanzo vuoi perché se ne dà il titolo vuoi perché se ne citano dei versi vuoi perché se ne citano delle strofe intere vuoi perché si citano dei cantanti come universo di riferimento quindi la stragrande maggioranza delle musiche che sentite nello spettacolo sono tutte musiche che l'emme belle indica all'interno del romanzo facendone una sorta di impalcatura su cui costruire nella fattispecie il fuero un tres anni di cui sopra è una canzone che cita esplicitamente l'emme belle nel romanzo quindi esiste lì alla stregua di tengo mio dottorero di alleluia di reloi di tu mi accostumbraste sono tutte canzoni che sono citate nel romanzo per darvi un'idea di come l'emme belle usa quelle canzoni cito l'ho già fatta altre volte ma mi aiuta a spiegare cito il passaggio finale del romanzo se voi leggete paura torero l'explicite del romanzo è una strofa di mantelito di mantelito blanco che è una sorta di romagna mia cilena che racconta le bellezze del cile della tradizione e quant'altro ed è un gruppo gli uasos quinqueros mi pare si chiamino che cantano questo mantelito blanco in questo in questo strofa si citano gli uccellini pazzi che vogliono volare e fa riferimento alla tovaglia che la fata abbandona nelle acque dell'oceano nel momento in cui stanno lasciando vigna del mar per ritornare non sappiamo bene dove sembra che carlos vada a cuba in realtà ricordo che per i lettori cileni del romanzo è chiaro che carlos morirà cosa che noi non abbiamo ben presente perché tutti i componenti del comandos che compie l'attentato contro Pinochet dell'86 morirono tutti nel massacro di ogni santi sei sette mesi dopo sterminati dalla polizia politica di Pinochet quindi un lettore del romanzo lo sa che carlos non arriverà a cuba in quella quando parla di uccellini pazzi che vogliono volare noi purtroppo perdiamo un aspetto di quella canzone ossia la fata dell'angolo che noi traduciamo che è tradotto in italiano fata dell'angolo adesso chiedo scusa se ci sono delle persone che parlano spagnolo qui farò una figura terrificante ma giusto non parlo lo spagnolo ma per intendersi in spagnolo il nome della fata è la loca del fronte ossia la pazza di rimpetto perché è il modo è l'espressione gergale esattamente come in certi italiani regionali usiamo la parola fata per indicare i travestiti per i parlanti ispanici è la loca la loca il travestito che è la pazza ora gli uccellini pazzi che vogliono volare sono le avesida locas di fatto lei sta parlando di se stessa sta indicando la sua voglia di evadere la sua voglia di volare via nel momento in cui sta citando il rapporto con con Carlos questo per darvi la misura di quanto le canzoni strutturano e servono da sottotesto per capire il romanzo bisognerebbe leggere tutti i testi per entrare dentro e capire per quale ragione ci sono quelle canzoni per completezza di informazione dico che ci sono soltanto pochi le marce militari sono tutte marce citate nel romanzo dalla marcia di Radetzky a Erika che notoriamente era una delle marce predilette di Pinochet alla marcia di Lili Marlene sono tutte citate ci sono soltanto due cose che in questo momento a mia memoria sono certo che non arrivano dal romanzo una è proprio un'interpolazione totalmente spuria scelta da me che peraltro rimanda al mondo argentino ed è nella penultima spiaggia oddio non mi viene il nome Alfonsina Yelmar quella non è citata ma in questa ho cercato di molto a me è venuto molto peggio naturalmente ma di fare un po' quello che fa l'Emme Bell cioè il testo di quella canzone che ti parla della poetessa che si suicida annegandosi nel momento in cui loro sono davanti alla spiaggia e sta finendo il loro sogno d'amore mi sembrava un modo per potenziare la situazione spingendola nel testo della canzone poi sempre nella spiaggia finale c'è una canzone che non è citata direttamente nel nel romanzo e che ha però un livello di paternità superiore nel romanzo si cita Silvio Rodriguez il cantautore cubano però non si cita nessuna canzone di Silvio Rodriguez in particolare si parla soltanto di Silvio Rodriguez quindi ho cercato una canzone di Silvio Rodriguez che potesse andare in quel passaggio proprio perché lì si sta parlando di Cuba e dell'andare a Cuba e e poi c'è un altro inserto di musica non prevista dal romanzo che è La muraglia che utilizziamo al momento del monologo delle candele all'inizio dello spettacolo quando la fata parla anzi non la fata la signora dell'emporio introduce il tema dei desaparecidos e lì ho cercato di rievocare quel mondo di musica popolare politica che rimanda immediatamente per noi all'immaginario degli intillimani spostandolo in una dimensione un po' meno scontata e ovvia degli intillimani recuperando quella canzone per il resto è tutto nel romanzo e le canzoni sono la regola la grammatica generativa del romanzo ci sono altre domande tra il tempo che arriva il microfono vi ricordo che la playlist dello spettacolo si può sentire su spotify e da dipendenza grazie vorrei chiedere questo ci sono anche inserimenti letterari nello spettacolo mi riferisco al monologo sui dei desaparecidos alla tenace umidità del ricordo da dove è stato tratto se ci sono anche altri testi che in qualche modo sono stati inseriti e se poteva se potevi raccontarci qualcosa della collaborazione e del confronto con la comunità cilena che ho letto che è stata in qualche modo anche coinvolta nella fase della realizzazione dello spettacolo grazie allora il copione è nato nel nel solco di quelle che Ronconi chiamava edizioni teatrali dei romanzi ossia non è stato fatto nessun lavoro di adattamento sono stati fatti semplicemente dei tagli tra l'altro sono sono tagli che abbiamo concordato ragionandoci sia con Lino che con Alejandro Tantagnan che ci ha aiutato nell'operazione di edizione teatrale sono tagli che non fanno cadere niente del romanzo cioè sostanzialmente è stata fatta la carta geografica del romanzo abbiamo cercato di restringere ma mantenere tutto non c'è nulla che sia scomparso nella riduzione come invece era scomparso poniamo nel lavoro sul pasticciaccio che aveva fatto Luca come inizio di quel tipo di percorso tutto quello che viene detto nello spettacolo è tutto ho paura torero cioè il romanzo è stata recuperata anche la dedica del romanzo che è di Lemebel la prima scena anche perché è quello è la chiave che ti serve a capire anche il rapporto con la storia cilena con è necessario per dare un appoggio diciamo alla narrazione le uniche due cose che non vengono dopo a oratore ero sono uno il discorso di Allende che viene mandato come riproduzione audio all'inizio è un frammento del vero discorso che Allende fece ai compatrioti poche ore prima di morire mentre era già in corso il bombardamento della moneda e mi sembrava che quel frammento fosse necessario uno per dare un ancoraggio di realtà e due per evocare tutto quel mondo che è il presupposto di questo romanzo che sono i tre anni di Unidad Popular che sono il golpe del 73 che per quanto presenti alla nostra coscienza non sono poi così presenti come per un lettore cileno quindi mi sembrava che fosse una nota un accordo iniziale che servisse per poi suonare il resto del romanzo e poi quel monologo sui desaparecidos che abbiamo inserito nella sequenza della manifestazione delle madri dei desaparecidos che esiste nel romanzo ma è stata un po' allargata interpolandolo con un materiale di Lemebel perché quel frammento è comunque un frammento di Lemebel che arriva da di perle cicatrici ed è una raccolta di cronache Lemebel ha scritto soltanto questo romanzo però ha pubblicato svariati libri che raccolgono racconti brevi cronache soprattutto frammenti dei suoi dei suoi interventi alla radio per dire anche il personaggio di Gonzalo il personal stylist della First Lady è un personaggio realmente esistente a cui Lemebel dedica un ritratto estremamente gustoso che ci racconta di questo Gonzalo tra l'altro lo ricorda anche Isabella Allende di Amore d'Ombra questo omosessuale truccatore che acudisce la First Lady e che proprio per questo lascia passare e può entrare e uscire a proprio piacimento dal palazzo presidenziale il tema quel frammento sui desaparecidos lo abbiamo introdotto perché volevo soprattutto nella sequenza dell'attentato dare un bilanciamento forte al discorso politico per evitare che si perdesse troppo attraverso i tagli che sono stati fatti qua e là e non nascondo ve lo confesso credo forse non l'ho ancora detto che è una forma anche di mio personalissimo omaggio indiretto a una figura che per me è stata importantissima che è Ronconi perché quando Luca faceva il pasticciaccio anche lui decise a un certo punto di fare un'interpolazione gaddiana con la sfilata delle giovani italiane che di fatto arriva da da Ero Sepriapo e fece tutto il lavoro di incastonamento della sfilata dentro il testo poi alla fine tolse l'interpolazione e l'interpolazione rimase solo come episodio visivo perché la sfilata delle giovani italiane veniva mimata in scena questa roba mi è rimasta dentro e ho detto voglio fare una piccola interpolazione di un altro pezzo per mie fisime personali col maestro ma questo lo racconta il mio psicanalista poi grazie temo che il tempo sia giunto alla conclusione quindi io vi ringrazio vi ricordo che il quarto numero di Stormi lo potete scaricare dalla home page del sito del piccolo teatro e ringrazio particolarmente Daniela Brogi e Claudio Longhi per questa conversazione posso aggiungere una cosina piccolissima a margine di una cosa che diceva Maddalena quando richiamava l'importanza del corpo come luogo di radicamento politico anche del discorso del romanzo ci sono due cose che vorrei citarvi che nella mia vita sono state fondamentali e mi piace condividerle sono due frammentini uno è un in realtà diciamo in un caso è Sanguinetti che parla in un altro caso è Benjamin che parla che peraltro è citato anche da Sanguinetti c'è un bellissimo testo di Sanguinetti se non avete letto vi consiglio di leggerlo che si intitola come si diventa materialisti storici che è un un discorso che Sanguinetti tenne in Parlamento per il novantesimo compleanno di Ingrao se non ricordo male è una sorta di autobiografia intellettuale in cui lui spiega come è diventato materialista storico e cita un un episodio della sua vita fondamentale l'incontro col compagno fedele cioè con un con un proletario un bambino proletario lui era in quegli anni viveva ancora a Torino era bambino per l'appunto e racconta dell'incontro con quest'altro bambino che lo colpisce enormemente perché è un proletario ed era la prima volta che vedeva un proletario fuori dalle sue funzioni cioè dice avevo visto l'idraulico venire a casa a fare le cose ma era sempre nell'esercizio professionale invece quello era un bambino come me semplicemente veniva da un altro mondo e e ho capito che veniva da un altro mondo da come parlava delle donne e da come parlava del sesso perché noi noi borghesi ne parlavamo in un altro modo quello è un discorso fortissimo che ti dà il senso di come l'eros di fatto abbia un radicamento politico e di quel compagno fedele dice un'altra cosa forte che il ritratto del proletariato per lui si è compiuto il giorno della liberazione di Torino quando vede il compagno fedele seduto su un su un cararmato con il fazzoletto rosso al collo e il mitra in mano e lì si è composta un'idea l'altra cosa fortissima che è di Benjamin ma che Sanguinetti ricita dentro il come si diventa materialisti storici ed è la fine del romanzo scusate è la fine del saggio Sanguinetti dice sta facendo un ragionamento sulla sull'assenza di coscienza di classe e parla dell'aspetto terrificante di un mondo che al 98% è fatto di proletari o sottoproletari che non hanno consapevolezza di esserlo non hanno coscienza di esserlo e in quel passaggio lì richiama Benjamin e dice aveva ragione Benjamin quando diceva mi auguro che ben presto la preoccupazione per il futuro dei figli sia inferiore rispetto al desiderio di vendicare il dolore che è stato inflitto alla carne dei nostri padri e al dolore che noi stesso patiamo sulla nostra carne questo passaggio secondo me è un altro snodo fondamentale per capire quel radicamento di corpo e politica che è alla base di questo romanzo sostanzialmente grazie